Federica Versano, la corteggiatrice di uomini e donne è sotto accusa per le labbra che appaiono rifatte. La giovane partecipante del dating show di Maria De Filippi non accetta e pubblica la foto da bambina. La corteggiatrice di uomini e donne ha subito molte critiche e commenti per il suo aspetto. La giovane laureata in scienze politiche e giurisprudenza, due lauree che non hanno impedito a Federica Versano dimostrare anche la sua bellezza oltre alla mente eccelsa. Una chiara dimostrazione che aspetto estetico e cultura non sono contrastanti, tutt'altro. Ma perché la corteggiatrice di uomini e donne ha subito critiche dal pubblico? La giovane è una mamma single che ama suo figlio ed è rimasta in buoni rapporti con il padre del piccolo anche se non sono mai stati sposati. I due crescono il piccolo Luciano in perfetta armonia quindi anche in questo campo non ci sono motivi di critica verso di lei. Quello che ha fatto agitare il mondo dei rumors sono le sue labbra indicate come, rifatte, e quindi, non naturali. Federica ha subito le critiche e ha risposto in modo semplice e spontaneo mostrando una sua foto da bambina con le stesse labbra carnose pronunciate. Lo scatto è comparso nelle stories del suo profilo Instagram e ha subito attirato l'attenzione dei fan che hanno commentato l'immagine. Federica Versano è una bellezza mediterranea che ha subito fatto colpo tra le corteggiatrici di uomini e donne. Ma non si tratta di un volto nuovo per la tv. La giovane biaureata, prima di comparire nel programma di Maria De Filippi, ha partecipato a diversi concorsi di bellezza. Pluripremiata in diverse occasioni, la Versano, ha conquistato la fascia di Miss Eleganza Campania e ha partecipato a Miss Italia nel 2018. 2018. Giovane e bella insegnante di economia politica, non ha paura di affrontare le critiche ribadendo che non ha niente di artificiale e quindi nemmeno le labbra.